In occasione del prossimo incontro mondiale della famiglia, i delegati della pastorale familiare delle diocesi di Crotone, Reggio Calabria e Locri, si sono ritrovati sabato scorso presso l'aula magna del seminario Pio XI di Reggio Calabria, per vivere un momento di preghiera e condivisione delle proprie esperienze alla luce della parola di Dio, ma soprattutto per scoprire l'amore familiare come vocazione e via di santità. L'evento è stato promosso dalla diocesi di Crotone, rappresentata dal proprio arcivesco Monsignor Angelo Raffaele Panzetta e dal responsabile diocesano della pastorale familiare Don Tommaso Mazzei. Amore Siletizia, questa gioia dell'amare, come possiamo nelle nostre parrocchie contribuire a far scoprire la bellezza dell'amore nelle famiglie, soprattutto in quelle famiglie che vivono la crisi? Con la testimonianza innanzitutto, con la nostra vita quotidiana, mettersi a fianco delle famiglie in difficoltà, delle famiglie ferite, l'accompagnare. Allora noi come diocesi di Locri Gerace e come responsabile di pastorale familiare regionale, generalmente la priorità la diamo all'accoglienza. La parte iniziale e l'impatto importante è l'accoglienza e l'empatia nel dialogo. Le coppie si devono sentire accolte e sicuramente non giudicate. Siamo venuti qui alla Madonna della Consolazione, a Reggio Calabria, siamo stati consolati ed esortati profondamente dalla parola di Dio, da Maria Santissima, a ripartire con gioia nel servizio per le famiglie e con le famiglie. Noi siamo certi che il futuro che il discernimento sinodale ci sta facendo intravedere passerà attraverso una Chiesa che si occupi molto di più della famiglia e che valorizzi il carisma degli sposi per trasformare le nostre comunità e renderle più familiari, più accoglienti, ma anche perché gli sposi possono nel mondo essere un segno autorevole del Vangelo. Ogni coppia è chiamata a rendere visibile l'amore coniugale nella propria storia e nella propria famiglia, perché se è via di santità l'amore familiare vuol dire che non è facile, però non perché non è facile e non è possibile viverlo. In una società che ritiene di non poter vivere concretamente questo amore e di non poter essere felice vivendo questo amore, penso che abbiamo bisogno invece di ricrederci e dimostrare la bellezza dell'amore familiare che ci fa sentire pellegrini in cammino insieme con lo stesso passo che è sempre il passo di Dio in mezzo a noi, perché l'amore familiare ci coinvolge e ci fa sentire comunità, popolo in cammino.